Ciao a tutti, benvenuti, bentornati a tutti gli spettatori che ci stanno seguendo in questo momento in rete. Abbiamo il grandissimo piacere di avere qui con noi la protagonista assoluta del Rigoletto che si appresta ad andare in scena sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice di Genova. Abbiamo Gilda, abbiamo la giovanissima soprano Nino Macciaizze, mi correggerai se pronuncio male, appena riduce ad avere appena terminato la prova antigenerale di questo Rigoletto Genovese. Grazie innanzitutto perché dopo tre ore di musica circa in cui Gilda credo che abbia un ruolo di cui poi ci parlerai anche vocalmente e anche interpretativamente molto impegnativo, Rigoletto più o meno lo conosciamo tutti, ben inteso, e grazie per la tua disponibilità essere qui con noi. Hai veramente, posso dirti, un'espressione, un viso simpaticissimo, sembri appena arrivata da una vacanza, da un riposo e non da uno dei ruoli più importanti per un soprano. Come è andata l'ante generale? Benissimo, sono contentissima e forse ho un viso così perché perché mi diverto. Si vede. Tutte le volte, tutte le volte che comunque sono sul palco mi diverto perché diciamo sono a casa mia e poi cantare Rigoletto è assolutamente un grandissimo piacere, tutte le volte, tutte le volte. Il che mi fa capire che non è certamente la tua prima Gilda questa. No, per fortuna no, l'ho fatto tante volte nei teatri, nei bellissimi teatri come Metropolite in Opera, come Bastidi Parigi, sono veramente, è un ruolo che mi dà sempre delle grandissime soddisfazioni, nonostante sia molto impegnativo, perché la scrittura è molto varia e quindi rende, diciamo, fa diventare una parte completa. completa, assolutamente e allora nonostante tutto questo comunque mi diverte molto e mi piace sempre tutte le volte. Ti stai trovando bene qui da noi con i complessi artistici nostri. Benissimo, come sempre, come sempre. E questo ci fa capire anche che non è la prima volta che sedano, io faccio finta di non saperlo ma non ce la siamo mica dimenticata, la tua sonnambula. Sì. Perfetto. Del 2008. Con Daniel Loren. Sì, con il maestro Loren. Ma eri una bambina perché già adesso sei... Appena ero, praticamente ero appena uscita dall'Accademia della Scala ed era una delle prime cose che facevo fuori l'Accademia e quindi sì, ero proprio una bambina e devo dire che la sonnambula era il mio debutto e quindi devo dire è stata veramente una delle più belle esperienze della mia carriera. Senti, non molto tempo fa abbiamo avuto il piacere di avere qui un tuo compaesano, diciamo, un tuo concittadino di Tbilisi, scusatemi sempre la pronuncia georgiana, che ci ha raccontato dei suoi inizi di come la vita teatrale musicale in Georgia sia molto viva e questo corrisponde anche alla tua esperienza. Sì, sì, devo dire che in Georgia c'è una grandissima tradizione di musica, di canto ma veramente di musica, la gente vive con la musica e la cosa incredibile che non vedo da tutte le parti del mondo è che praticamente tutte le famiglie, appena il bambino diventa un po' grande, come diciamo 6, 7, 8 anni, porta subito a studiare la musica, esattamente come è capitato a me. Ecco, tu con cosa hai cominciato? Subito cantando? Ho cominciato col pianoforte, praticamente sì, però ho suonato solo due anni, avevo 6 anni quando ho cominciato e ho suonato il piano solo due anni perché non era la cosa che io avrei dovuto fare nella vita e non so come mai, ma avevo già capito, perché la cosa bufa è che tutte le volte che andavo alle lezioni di pianoforte, praticamente al posto di suonare cantavo e allora l'insegnante diceva senti ma questo dovresti suonare? Dicevo no io voglio cantare, io voglio cantare e allora mi mette con la cantata. E hai cantato? Allora quando ho compiuto 8 anni praticamente l'insegnante di pianoforte ha detto a mia madre senta signora forse la bambina dovrebbe cantare. Allora mi hanno fatto una piccola audizione nella scuola di canto e che era proprio una scuola di canto diciamo canto lirico. Non era assolutamente la cosa che colpisce tantissimo della Georgia che i bambini di 8 anni già possono studiare canto, ma canto lirico, l'opera. Ma ascolta ma c'è un metodo particolare perché tutti pensano che si debba aspettare la muta della voce. Certo quel periodo mi sono fermata e così succede. Certo abbiamo iniziato a studiare, a preparare la voce, a fare dei vocalizzi piano piano poco poco a 8 anni e poi quando sono arrivata a 11 ci siamo fermati per un anno. A 12 anni avevi già la tua voce? Esattamente. Ma tu sei un fenomeno. Sono ritornata già diciamo con la voce maturata e allora sì si canta da ormai 21 anni. Allora 21 anni udite udite, non perdetevi Nino Macciaizze in Gilda, nel Rigoletto di Giuseppe Verdi, qui al Carlo Felice il primo marzo, il tre marzo, il cinque marzo. A questo punto è assolutamente d'obbligo venireti a sentire. Grazie. Nino, peccato veramente doverti salutare, veramente davvero e speriamo di averti presto ancora qui a Genova. grazie. Dimmi così al volo perché ci hanno fatto segno di chiudere. Un ruolo che ti piacerebbe affrontare? Un ruolo che non ho ancora cantato? Sì. Manon e la Traviata. Bene, ci contiamo. Grazie, sono molto felice di essere qua e di cantare di nuovo in questo teatro splendido, teatro davanti al magnifico pubblico e non vedo l'ora. E noi non vediamo l'ora di ascoltarmi. Grazie, grazie mille. Grazie. 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 Grazie.